E' la mia preferita Wow! Posso un pezzo? Vuoi un pezzo? Ok, tieni Grazie mille E' buonissima, posso un altro? Ok, ok, tieni Grazie Un altro ancora Ok, basta adesso, eh, perché questo è l'ultimo pezzo Basta, basta Ok, va bene Valentina, hai un pezzo di merenda? Il tuo compagno si è sentito poco bene e si sente debole Per favore, per favore Ma veramente? Eh, ma che fai? Tutti a me? Va bene, va bene, tenga